Buongiorno a tutti, sono Vittorio Bonissi, Customer Support Manager di Rancilio Group. Sono felicissimo di essere stato invitato, in qualità di rappresentante della mia azienda, questa bellissima manifestazione dove ho visto dei ragazzi veramente motivati, veramente preparati, che si sono interfacciati quindi con le nostre macchine nella preparazione dell'espresso, non solo e anche nella bevanda del cappuccino, quindi sicuramente un'esperienza bella perché poi quando si lavora e si collabora con i giovani di queste scuole alberghiere è veramente bello e interessante. E poi anche poi dall'ultima parte del progetto, quando hanno presentato un'azienda o un bar, la speranza, vi auguro di realizzare questi sogni e perché no, magari anche utilizzare una macchina del nostro gruppo, quindi con un brand Rancilio, a iniziare dalla classe 11 che abbiamo utilizzato qui in questa manifestazione, in questi giorni, fino a arrivare magari anche alla nostra specialty che stiamo presentando in questi giorni a Milano.